Questi sono i rottami dell'aereo abbattuto nell'aprile del 1994, mentre era in avvicinamento all'aeroporto di Kigali. A bordo c'era il presidente del Ruanda di allora, Juvenal Abiyarimana, di etnia Utu. A Parigi i giudici incaricati dell'indagine sull'attentato hanno respinto la prospettiva di un processo su questo episodio, che innescò il genocidio in Ruanda, con lo sterminio fra gli 800.000 e il milione di ruandesi. Risulterebbe quindi scagionato insieme ai suoi sodali il presidente ruandese Paul Kagame, che ha rischiato di essere mandato davanti alla corte d'assise. I rapporti fra Kigali e Parigi sono stati a lungo pessimi. Per la Francia, Kagame, all'epoca leader dei miliziani tuzzi del fronte patriottico ruandese, poi diventato partito, poteva essere il vero mandante dell'abbattimento dell'aereo. Che le Nazioni Unite nulla fecero per impedire il genocidio è un fatto accertato. In poche settimane più di 2 milioni di Utu dovettero fuggire. Il genocidio ruandese miso in moto una concatenazione di eventi, di cui i più eclatanti furono il crollo del regime del presidente Mobutus Eseseco e la perenne guerra civile nello Zaire.